Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Come molte persone sapranno, da pochi giorni Apple ha rilasciato iOS 8 Beta 2 agli sviluppatori. In attesa del video tutorial che farò tra pochi giorni su come installarlo senza bisogno di essere sviluppatori o senza bisogno dell'UD registrato, ho deciso di fare questo video in cui vi mostro tutte le novità e tutti i bug che sono stati risolti in questo nuovo aggiornamento beta. Come già comunicato da Apple non ci sono molte novità in questo firmware, i cambiamenti sono stati maggiormente dei bug fixes e in questo caso voglio iniziare il video mostrandovi quello di Facebook. Tutti coloro che hanno provato la beta 1 infatti sapranno che appunto su iOS 8 Beta 1 i video di Facebook non venivano riprodotti correttamente, infatti dopo pochi secondi di riproduzione veniva restituito un errore di connessione che in realtà era dovuto a un bug di iOS 8 Beta 1. Bene, come potete vedere questo bug nella Beta 2 è stato corretto, infatti sono riuscito a riprodurre con successo un video su Facebook. Quindi questo è uno dei tanti bug fix degni di nota. Passiamo ora a una nuova funzione, principalmente una nuova applicazione, podcast, che come saprete è già da qualche anno l'applicazione Apple per appunto i podcast di iTunes, ma che da ora in poi è diventata nativa di iOS 8 Beta 2. Come vedete infatti sarà già preinstallata e non sarà possibile cancellarla, il che per alcuni versi è bello, per altri versi invece è orribile. Comunque staremo a vedere come si evolverà la storia nelle prossime beta. Resta il fatto che in questa Beta 2 podcast è preinstallato come se fosse un'applicazione di sistema. Proseguiamo con il nostro cammino aprendo Safari. In questa applicazione sono state aggiunte alcune novità secondarie. Innanzitutto, quando ci troveremo su un sito, basterà tenere il dito premuto sull'icona dei preferiti e in questo modo potremo rapidamente aggiungerlo ai preferiti oppure aggiungerlo all'elenco lettura, che noi sappiamo è il pannello che ci consente di aprire una pagina web salvata in questo elenco anche in modo offline. In questo caso io l'ho salvato nei preferiti, una specie di collegamento rapido per salvare qualsiasi sito appunto come ho già detto nei preferiti o nell'elenco lettura. Inoltre, come vedete, se attiveremo la navigazione privata, quindi la navigazione anonima, avremo questa nuova schermata di visualizzazione, leggermente cambiata rispetto alla Beta 1. Passiamo ora alla prossima novità nell'applicazione messaggi. Come potete vedere ora in un messaggio, i bottoncini per la videocamera e per il microfono, quindi per il messaggio vocale, saranno sempre grigi e non cambieranno colore a seconda del tipo di messaggio. Saranno sempre grigi, cosa che io odio perché prima usavo solamente quelli per capire se il messaggio era un normale SMS oppure si trattava di un iMessage. Ad ogni modo proseguiamo con l'elenco delle novità e apriamo impostazioni. Come sicuramente avrete potuto notare, sono sparite quelle piccole freccine nella parte estrema destra di ogni categoria. Come vedete infatti, ora tutto il lato destro risulta pulito, cosa senza senso perché invece quando apriamo uno dei primi pannelli, per esempio in questo caso generali, come vedete questa sottocategoria mantiene le frecce. Quindi è stata una scelta di Apple abbastanza grezza come del resto è normale in quanto siamo nella Beta 2. Passiamo ora alla prossima novità in Immagini, che innanzitutto come vedete è stato rinominato in Foto, quindi la nuova applicazione Immagini in Italia si chiamerà Foto. Inoltre la prima volta che la apriremo sulla Beta 2 riceveremo questo messaggio di benvenuto in Foto iCloud e potremo scegliere se attivarlo oppure ignorare questo avviso. Inoltre è presente un'altra novità nell'applicazione Immagini, in particolare nella sezione Album. Come vedete infatti ora ci verranno creati degli album specifici per i video in timelapse, per i video in slow motion, nel caso dell'iPhone 5S, e anche per i burst shot, quindi sempre quella funzione dell'iPhone 5S che scatta 10 foto al secondo. Quello di prima era un video in slow motion e ora sto registrando un video timelapse. Una volta registrato il video timelapse, come vedete si è creato un nuovo album che appunto conterrà tutti i video timelapse che ho creato. Come ho già detto lo stesso identico principio vale per i video in slow motion e per i burn shot. Apriamo l'applicazione Impostazioni, andiamo in generale Accessibilità perché vi devo mostrare una nuova funzione dell'assistive touch. Come saprete l'assistive touch è quel menu che ci consente di simulare i tasti fisici del nostro dispositivo. Principalmente se non lo conoscete, come vedete la sua funzionalità è quella di emulare il tasto home oppure alcuni servizi di iOS. Ora avremo anche la possibilità di emulare il centro di controllo. Come vedete infatti basterà premere il relativo bottone e il centro di controllo verrà attivato indipendentemente dalla nostra posizione in iOS. In questo caso per esempio lo sto attivando dalla lock screen. Passiamo ora a un'altra novità che sto scoprendo adesso. Come potete vedere ora nelle impostazioni siamo in una sotto 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 categoria chiamata assistive touch. Normalmente tornando indietro dovremo tornare alla sezione accessibilità successivamente in generale e poi in impostazioni. Ma cosa notiamo di nuovo? Il bottone dice impostazioni. Quindi esattamente ora ho scoperto che se noi chiudiamo l'applicazione impostazioni in un sottomenu il bottone per tornare indietro ci riporterà direttamente alla prima pagina. Questa è una funzione veramente interessante che apprezzo molto in quanto iOS ha finalmente capito che se uno chiude un'applicazione in una sottoscheda magari potrebbe essere comodo una volta riaperta tornare direttamente alla scheda principale. E credo che questa novità non era mai saltata fuori quindi wow l'ho scoperta ora. Passiamo ora alla prossima novità delle notifiche. Come vedete andando sulle impostazioni delle notifiche e aprendo la scheda di una qualsiasi applicazione come per esempio Facebook che è un'applicazione che ogni tanto rompe abbastanza le scatole c'è questo nuovo interruttore assolutamente nella parte più in alto chiamato consenti notifiche. Questa è una specie di muto globale per tutte le sotto impostazioni infatti se disattiveremo questo muteremo completamente l'applicazione e non arriveranno più notifiche cosa molto comoda per quando vogliamo proprio rimuovere tutti i segni di vita di un'applicazione senza stare a disattivare ogni singolo parametro. Ora basterà disattivare questo interruttore generale e le notifiche di quell'applicazione verranno rimosse. L'ultima cosa che vi voglio mostrare è una novità su iPad come vedete ora finalmente anche la tastiera di iPad 2 ha il quick type quella tecnologia che permette di prevedere le parole future e che soprattutto legge tutte le nostre conversazioni che facciamo con i nostri contatti e quindi una volta imparato il registro di linguaggio che useremo con le diverse persone sarà in grado di proporci parole adeguate. Se non avete capito vi faccio un esempio il sistema memorizzerà chi saranno i nostri amici e quindi quando chatteremo con un amico ci proporrà delle parole adatte al contesto. Invece per dire memorizzerà se siamo dei ragazzi per dire faccio un esempio chi sono i nostri professori e quando quindi parleremo se mai dovessimo chattare con un professore ci proporrà anche in quel caso parole adatte a quel contesto. Cosa molto comoda che fino alla beta 1 era disponibile solo su iPhone e iPod Touch e che invece dalla beta 2 è stata introdotta su iPad. Quindi ragazzi queste erano le migliori novità di iOS 8 beta 2. Fatemi sapere cosa ne pensate soprattutto se questo video vi è piaciuto lasciate un bel pollice in su che per me è veramente importante. Vi ricordo inoltre di seguirmi su Twitter e su Facebook tutti i link li troverete giù in descrizione. Mi raccomando condividete questo video in giro per il web per aiutarmi a crescere. Soprattutto ragazzi la cosa più importante iscrivetevi al mio canale. Un grande saluto. Ciao a tutti!